Musica Musica Questa è la prima volta che mi trovo con i cappelli in testa quindi prevedo che tutta la sera la terrò Benvenuti, Buon Natale Buon Natale Ribon Natale Allora, benvenuti a voi e Buon Natale anche ai ragazzi che questa sera suoneranno Come sapete ci sono sette gruppi e tre solisti più la Pandoro Christmas Band che chiuderà la serata Buon Natale a voi, Buon Natale alle personalità politiche che sono qua convenute al Cinema Teatro Politeama Io vi auguro buon divertimento e facciamo tutta musica questa sera Vi ricordo che la serata è organizzata dallo studio in Nautilus in collaborazione con la Conf Commercio, la Conad e Covim nonché Radio Fano 101 Buon divertimento, il primo gruppo che vi presentiamo questa sera sono 4 o 5 ragazzi di Fano Stefano Fucili Alessio Vincenzetti Michele Longini Stefano Papa Simone Cuga I Fine Art Garden Grazie Stefano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti